Cosa prevede l'iniziativa popolare per cure infermieristiche forti? Iniziativa sulle cure infermieristiche? Le cure infermieristiche fanno parte delle cure mediche. Il bisogno di personale infermieristico aumenta costantemente. Negli ultimi anni, la Confederazione e i cantoni hanno già adottato varie misure per migliorare la situazione del personale infermieristico, ad esempio attraverso un programma di reinserimento. È stata presentata un'iniziativa popolare che chiede alla Confederazione e i cantoni di adottare ulteriori misure, promuovere la formazione del personale infermieristico e migliorare le condizioni di lavoro nel settore. Per questo motivo, siamo ora chiamate e chiamati a votare. Il Parlamento ha elaborato un controprogetto indiretto all'iniziativa. Il controprogetto indiretto prevede, ad esempio, che la Confederazione e i cantoni investano circa un miliardo di franchi nei prossimi otto anni per la formazione del personale infermieristico. Se l'oggetto viene accettato, verrà aggiunto un articolo nella Costituzione federale sulle cure infermieristiche. La Confederazione e i cantoni sono responsabili della buona qualità delle cure infermieristiche. Il nuovo articolo prescrive che la Confederazione e i cantoni devono Formare sufficiente personale infermieristico Impiegare il personale infermieristico nelle aree di competenza in cui si è formato Inoltre, la Confederazione deve Rendere vincolanti le condizioni di lavoro nel settore infermieristico, ad esempio l'importo degli stipendi Fissare un prezzo più alto per i servizi infermieristici Adottare misure per la formazione continua del personale infermieristico Definire più servizi che il personale infermieristico è autorizzato a fatturare alle casse malati senza un consenso medico Quali sono gli argomenti di chi è a favore? In nessun altro settore ci sono più posti vacanti come in quello infermieristico Per questo c'è bisogno di più personale Troppe persone abbandonano la professione Le condizioni di lavoro nel settore infermieristico devono quindi migliorare ad esempio con stipendi equi e più opportunità di sviluppo professionale C'è bisogno di personale sufficientemente ben formato per garantire la qualità delle cure infermieristiche Quali sono gli argomenti di chi è contrario? Gli ospedali e i cantoni devono continuare a regolare gli stipendi e le condizioni di lavoro del settore infermieristico, non la Confederazione La Costituzione garantisce le cure mediche di base Le cure infermieristiche non devono essere menzionate separatamente C'è bisogno di meccanismi di controllo per la fatturazione di servizi infermieristici senza consenso medico affinché i costi per la salute non aumentino troppo Se vuoi che l'iniziativa venga accettata, allora vota sì Se invece vuoi che venga rifiutata, vota no